Eugenio Gianni è il nuovo presidente della regione toscana. A Palazzo Strozzi Sacrati c'è stato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Enrico Rossi ed il neogovernatore. Rossi ha regalato una cravatta di colore rosso al suo successore che dopo averla indossata ha suonato la campanella che sancisce simbolicamente l'avvicendamento alla guida della giunta regionale. Io penso che sia un momento per me fondamentale nella mia vita, nelle mie aspirazioni, nel mio rapportarmi attraverso lo spirito di servizio che ha caratterizzato l'impegno politico al popolo toscano. Quindi oggi sono anche emozionato, sono davvero contento ma anche consapevole delle responsabilità che vado ad assumere da questo momento ogni ordinanza. Solo quest'anno Enrico Rossi ne aveva firmato 88 per disciplinare in condizioni di emergenza quello che è la vita delle nostre comunità. Passerà sotto la fia firma e quindi sarà un momento davvero, davvero importante. Il neopresidente ha annunciato che tra i primi provvedimenti, oltre alle ordinanze di carattere emergenziale, ci sarà un aggiornamento sul patto per il lavoro, siglato dalla regione toscana con i sindacati prima del lockdown. Tra i primi impegni è anche la sollecitazione per il ripristino urgente del ponte crollato ad Albiano Magra, porta di accesso alla Lunigiana. Gianni ha dettato i tempi per la creazione della squadra di governo regionale con l'avvio delle consultazioni e l'ufficializzazione in consiglio regionale entro i prossimi dieci giorni, così come previsto dallo statuto.